Allora ragazzi, bella vittoria contro i Bulla Boys! I playoff ormai sono sicuri, però oggi è stata una bella partita, no? Sì, molto combattuta, perché i Bulla Boys erano in forma oggi, anzi non meritano gli ultimi posti della Trassiti da loro Anche se noi eravamo super contati, loro erano 8, erano più freschi, cioè era più combattuta questa partita Ho capito Capitano Vuoi dire qualcosa Capitano? Niente, io mi congratulo con la squadra, è stata l'ultima partita Mi congratulo anche con i Bulla Boys che sono anche contro la squadra Ho capito, e in caso di playoff chi vorresti incontrare voi? A tutti Tutti? Non ti mette nessuno? Ormai, anzi c'erano questo per le esperanze nelle playoff, anzi le ultime 8 partite 7 vittorie Però il mondo è un contrapartio però Poi, corrisce e finisce Oggi il migliore chi è stato di voi? Chi è stato quello decisivo? La squadra Tutta la squadra Sì, sì Ma oppure il mio fratello è già stato migliore di tutti, te lo dico Ho capito Prostituno però c'erano di Vinci Club Che oggi hanno perso il primo posto in classifica e saranno molto arrabbiati sicuramente Sto ad arrabbiare quanto vuoi Noi giochiamo tutte le nostre carte a disposizione Cerchiamo di fare una buona partita Sì, appunta E non... Ah, però bambè, almeno giocarcela Alla vai E non se la faccio le spawn figure Eh, lo vedremo Bambè ragazzi, alla prossima Ciao, 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 ciao Ciao, ciao